8.8.31 MDT Monte Blue Dome, Idaho Il ronzio costante del telefono sul comodino accanto al suo letto svegliò l'uomo da un sonno senza sogni. Sparisci, pensò. Lasciami in pace. Ma il ronzio continuò e alla fine lui si voltò lentamente, accese la lampada e stringendo gli occhi per la luce sollevò il ricevitore. Macklin, disse con la voce impastata e assonnata. Colonello, signore, era il sergente Shore. Ho della gente per l'orientamento che l'aspetta, signore. Il colonnello James Jimbo Macklin guardò la piccola sveglia verde accanto al telefono e vide che era in ritardo di un oltre mezz'ora per la sessione di orientamento e presentazione. All'inferno, pensò. Ho puntato quella sveglia alle 6.30 precise. Va bene, sergente, li tenga lì ancora per 15 minuti. Aganciò e controllò la parte posteriore della sveglia. Vide che la levetta era ancora abbassata. O non aveva inserito la sveglia oppure l'aveva spenta nel sonno. Si sedette sull'orlo del letto, tentando di raccogliere l'energia per alzarsi, ma sentiva il corpo fiacco e gonfio. Negli anni precedenti, riflette Cupo, non gli era mai servita una sveglia per alzarsi. Si sarebbe potuto svegliare per il suono di un passo sull'erba bagnata e sarebbe stato allerta come un lupo in pochi secondi. Il tempo che passa, pensò. Andato da molto ormai. Si costrinse ad alzarsi. Si costrinse ad attraversare la stanza da letto con le pareti decorate con fotografie di caccia a Phantom e Thunderchief in volo e si diresse nel piccolo bagno. Accese la luce e fece scorrere l'acqua nel lavandino. Era color ruggine. Si schizzò l'acqua in faccia, si asciugò con un asciugamano e, con occhi annebbiati, guardò l'estrano nello specchio. Macklin era alto un metro e ottantasette. E fino a cinque o sei anni prima il suo corpo era stato magro e duro, le sue costole coperte di muscoli, le spalle forti e dritte, e il suo petto sporgeva come l'armatura Choban sul muso di un carro armato M1. Adesso la definizione del suo corpo era offuscata da carne molle e la sua pancia resisteva ai cinquanta addominali che faceva ogni mattina, vale a dire quando trovava il tempo per farli. Si accorse di una curvatura nelle sue spalle, come se fossero schiacciate da un peso invisibile, e i peli sul suo petto erano cosparsi di grigio. I suoi bicipiti, un tempo duri come la roccia, si erano trasformati in grasso. Una volta aveva spezzato il collo di un soldato libico nella piega del suo gomito. Adesso si sentiva come se non avesse nemmeno la forza di rompere una noce con una mazza da muratore. Inserì la spina del rasoio elettrico e lo passò sui peletti ispidi sulla sua mascella. I suoi capelli scuri avevano un rigido taglio militare e mostravano macchie bianche sulle tempie. Sotto la fronte squadrata i suoi occhi erano di un blu gelido e affossati in pozze di fatica, come pezzi di ghiaccio che galleggiavano su dell'acqua fangosa. Mentre si radeva, Macklin pensò che il suo volto era finito per assomigliare a una qualsiasi delle centinaia di mappe e di campi di battaglia che aveva esaminato molto tempo prima. Lo scoglio sporgente del suo mento portava al burrone frastagliato della sua bocca, su fino alle alture dei suoi zigomi marcati e alla cresta scoscesa del suo naso per scendere di nuovo nelle paludi dei suoi occhi. Poi un salto verso l'alto, nelle brune foreste delle sue sopracciglia folte. E c'erano anche tutti i segni del terreno, i crateri butterati della grave acne che aveva avuto da adolescente, la piccola trincea di una cicatrice che zigzagava attraverso il suo sopracciglio sinistro, ricordo di un proiettile di rimbalzo che lo aveva colpito in Angola. Sulla sua scapola sinistra c'era una cicatrice più profonda e lunga, incisa da un coltello in Iraq, e il ricordo di un proiettile Viet Cong gli increspava la pelle sul lato destro della sua gabbia toracica. Macklin aveva 44 anni. Ma a volte si svegliava e se ne sentiva 70, confitte di dolore in braccia e gambe a causa di ossa che erano state rotte in battaglie su rive lontane. Finì di radersi e spostò la tenda della doccia per aprire l'acqua. Poi si bloccò, perché sul fondo della doccia c'erano piastrelle del soffitto e macerie. L'acqua gocciolava da una serie di buchi, dove il soffitto della doccia aveva ceduto. Mentre fissava l'acqua gocciolare, rendendosi conto che era in ritardo e che non avrebbe potuto fare una doccia, una rabbia improvvisa sorse dentro di lui come del ferro fuso in un alto forno. Batte il pugno contro il muro una volta, poi di nuovo, la seconda volta, la forza del suo colpo lasciò una rete di minuscole crepe. si sporse sul lavandino, aspettando che la rabbia passasse, come al solito. «Sì, saldo», disse a se stesso. «Disciplina e controllo. Disciplina e controllo». Lo ripetei qualche altra volta, come un mantra. Fece un respiro lungo e profondo e si raddrizzò. «È ora di andare», pensò. «Mi stanno aspettando». Si passò il deodorante in stick sotto le ascelle e poi andò all'armadio nella camera da letto per scegliere l'uniforme. Scelse un paio di pantaloni blu scuro appena stirati, una camicia azzurra e il suo bomber in poplin beige con toppe di pelle sui gomiti e il nome Macklin stampato sul taschino. Si allungò verso il ripiano superiore, dove teneva la cassetta con la sua mitraglietta Ingram e le munizioni, e tirò giù con cura il cappello da colonnello dell'aviazione. Tolse un po' di polvere immaginaria dalla visiera lucida e se lo mise in testa. Si controllò nello specchio lungo attaccato all'interno della porta dell'armadio. bottoni lucidati? Fatto. Pantaloni stirati? Fatto. Scarpe tirate a lucido? Fatto. Si raddrizzò il colletto e poi fu pronto per andare. Il suo veicolo elettrico privato era parcheggiato fuori dal suo alloggio, nel livello del centro di comando. Chiuse la porta con una delle molte chiavi che portava una catena portachiavi, poi salì sul veicolo e guidò lungo il corridoio. Alle sue spalle, oltre il suo alloggio, c'era la porta metallica sigillata dell'armeria e il rifornimento d'emergenza di cibo e acqua. Dall'altro lato del corridoio, oltre agli alloggi di altri tecnici e impiegati di Earth House, c'era la stanza dei generatori e quella con i controlli del sistema di filtraggio dell'aria. Superò la porta del controllo perimetrale che conteneva gli schermi dei piccoli radar di sorveglianza portatili da campo di battaglia, posizionati per controllare l'ingresso alla Earth House, e lo schermo principale del disco radar puntato verso il cielo, che si trovava in cima al monte Blue Dome. Nel controllo perimetrale c'era anche il sistema idraulico che sigillava le prese d'aria e la porta rivestita di piombo in caso di attacco nucleare, e i vari schermi radar erano presidiati a orario continuato. Macklin guidò il veicolo su una rampa che lo portò al livello successivo e si diresse verso il municipio. Superò le porte della palestra, in cui si stava tenendo la lezione di aerobica. Qualche corridore mattutino si stava allenando nel corridoio e Macklin annui verso di loro mentre li superava rapidamente. Poi si trovò nel corridoio più ampio della piazza di Earth House, un incrocio di corridoi con un giardino di roccia al centro. Tutti intorno c'erano diversi negozi, con le facciate costruite in modo da assomigliare a quelli di un paese di campagna. La piazza di Earth House conteneva un centro a bronzatura, un cinema in cui si mostravano film su videocassetta, una biblioteca, un'infermeria in cui operavano un dottore e due infermiere, una sala giochi e una caffetteria. Macklin colse il profumo di pancetta e uova passando davanti a quest'ultima e desiderò di avere il tempo per fare colazione. Non era sua abitudine essere in ritardo. Disciplina e controllo, pensò, erano queste le due cose che facevano un uomo. Ma era ancora arrabbiato per il soffitto crollato nella sua doccia. Di recente sembrava che i muri e i soffitti di diverse aree di Earth House si stessero crepando e stessero cedendo. Aveva chiamato i fratelli Osley molte volte, ma loro gli avevano detto che i rapporti strutturali mostravano che c'era da aspettarsi un assestamento. «Assestamento un cazzo!» aveva risposto Macklin. «Abbiamo un problema di drenaggio dell'acqua acqua! L'acqua si raccoglie sopra i soffitti e vi filtra attraverso!» «Non si agiti, colonnello», gli aveva detto Donny Osley da San Antonio. «Se si nervosisce lei, allora anche la gente si nervosirà, giusto? E non ha senso inervosirsi, perché quella montagna è in piedi da qualche migliaio di anni e non andrà da nessuna parte.» «Non è la montagna», aveva risposto Macklin, con il pugno che si stringeva sulla cornetta. «Sono le gallerie! Le mie squadre di pulizia stanno trovando ogni giorno nuove crepe!» «Assestamento, tutto qua. Ora, ascolti, Terry e io abbiamo pompato circa dieci milioni di verdoni in quel posto e lo abbiamo costruito perché resista. Se non avessi degli affari da gestire saremmo proprio lì con voi. Ora, così in profondità, è normale che ci siano degli assestamenti e delle infiltrazioni d'acqua. Non c'è modo di evitarlo. E la stiamo pagando centomila dollari l'anno per avallare Earth House e per vivere laggiù, visto che è un eroe di guerra e così via. Quindi faccia sistemare quelle crepe e faccia restare tutti felici.» «Stia a sentire lei, signor Osley. Se non avrò qua un ingegnere strutturale a dare un'occhiata a questo posto entro una settimana, io me ne vado! Non me ne frega un cazzo del mio contratto! Non incoraggerò la gente a stare qua giù se non è sicuro!» «Io credo», aveva detto Donny Osley, con l'accento texano che era diventato più freddo di diversi gradi. «Che farebbe meglio accalmarsi, colonnello. Ora lei non può abbandonare un contratto d'affari. Non sono buone maniere. Deve ricordare come Terry e io l'abbiamo trovata e coinvolta prima di perdere le staffe, ok?» «Disciplina e controllo», aveva pensato Macklin con il cuore martellante. «Disciplina e controllo». E poi aveva ascoltato, mentre Donny Osley gli diceva che avrebbe mandato un ingegnere da San Antonio entro due settimane perché passasse al setaccio Earth House. Ma nel frattempo lei è il grande capo. Ha un problema, lo risolve. D'accordo? E quello era stato quasi un mese prima. L'ingegnere strutturale non era mai arrivato. Il colonnello Macklin fermò il suo veicolo vicino a una doppia porta. Sopra di essa c'era l'insegna municipio scritta in caratteri elaborati e d'altri tempi. Prima di entrare, strinse la cintura ad un altro buco, anche se i pantaloni erano già stretti intorno alla sua vita. Poi si raddrizzò ed entrò nell'auditorium. Sulle sedie di vinile rosso c'era seduta una dozzina di persone, rivolte verso il podio su cui il capitano Warner stava rispondendo alle domande e spiegando le caratteristiche di Earth House sulla mappa appesa al muro alle sue spalle. Il sergente Shore, pronto per affrontare i quesiti più difficili, vide entrare il colonnello e si avvicinò rapidamente al microfono sul podio. «Mi scusi, capitano», disse, interrompendo la spiegazione sull'impianto idraulico e sul sistema di filtraggio dell'acqua. «Signori, voglio presentarvi qualcuno che di certo non ha bisogno di presentazione, il colonnello James Barnett Macklin». Il colonnello continuò a camminare con passo preciso lungo la corsia centrale, mentre il pubblico applaudiva. Prese posto dietro al podio, incorniciato da una bandiera americana e una di Earth House, e guardò il pubblico. L'applauso continuò, e un uomo di mezza età, con giubbotto da combattimento mimetico, si alzò in piedi, seguito dalla moglie vestita in modo analogo. Poi furono tutti in piedi ad applaudire e Macklin li fece continuare per altri quindici secondi, prima di ringraziarli e di chiedere loro di sedersi. Il capitano Teddy Bear Warner, un robusto ex berretto verde che aveva perso l'occhio sinistro a causa di una granata in Sudan, e che adesso indossava una benda nera, si sedette dietro il colonnello, e Shore gli si sedette accanto. Macklin fece una pausa, organizzando nella mente le parole che stava per pronunciare. Di solito faceva lo stesso discorso di benvenuto a tutti i nuovi arrivati a Earth House. Diceva loro quanto fosse sicuro il posto e come sarebbe stato l'ultima fortezza dell'America, quando i russi l'avrebbero invasa. Dopo ascoltava le loro domande, stringeva loro la mano e firmava qualche autografo. Era per quello che lo pagavano i fratelli Osli. Li guardò negli occhi. Erano abituati a letti belli e puliti, bagni dall'odore piacevole e al roast beef di domenica pomeriggio. Troni, pensò. Vivevano per riprodursi, mangiare, cagare e pensavano di sapere tutto su libertà, lealtà e coraggio. Ma non sapevano assolutamente niente di queste qualità. Fece passare lo sguardo sui volti. Non vide nulla tranne mollezza e debolezza. Queste erano persone che pensavano che avrebbero sacrificato mogli e mariti, figli neonati, case e tutto quello che possedevano come prezzo per tenere il sudiciume russo lontano dalle nostre spiagge. Ma non l'avrebbero fatto, perché i loro spiriti erano deboli e i loro cervelli erano corrotti dal cibo spazzatore, mentale. Ed eccoli qui, come tutti gli altri, in attesa che lui dicesse loro che erano veri patrioti. Aveva voglia di aprire la bocca e dire loro di andarsene come il vento da Erthaus, che quel posto era strutturalmente instabile e che loro, quei perdenti deboli di spirito, sarebbero dovuti tornare a casa per nascondersi nei loro seminterrati. Gesù Cristo, pensò. Che diavolo ci faccio qua? Poi una voce mentale, come il suono di un frustino che schiocca, disse disciplina e controllo. Datti una regolata, signore. Era la voce del soldato Umbra. Macklin chiuse gli occhi per un secondo. Quando li riaprì, stava fissando in faccia un ragazzo ossuto e dall'aspetto fragile, seduto nella seconda fila dietro suo padre e sua madre. Un vento forte avrebbe gettato a terra quel ragazzino, decise, ma si fermò, esaminando i suoi occhi di un grigio pallido. Pensò di riconoscere qualcosa in quegli occhi. Determinazione, scaltrezza e forza di volontà che ricordava di aver visto in fotografie di se stesso a quell'età, quando era uno sciattone grasso e goffo che suo padre, capitano dell'aviazione, aveva preso a calci in culo a ogni occasione. Tra tutti quelli seduti davanti a me, pensò, quel bambino secco potrebbe avere una possibilità. Gli altri erano cibo per cani. Si fece forza e iniziò il discorso di orientamento, con lo stesso entusiasmo che avrebbe avuto scavando una latrina. Mentre il colonnello parlava, Roland Croninger lo esaminò con intenso interesse. Il colonnello era molto più robusto di come appariva nelle foto su Soldier of Fortune e sembrava assonnato e annoiato. Roland era deluso. Si era aspettato un eroe di guerra slanciato e affamato, non un venditore di auto usate e in abbigliamento militare. Era difficile credere che quello fosse lo stesso uomo che aveva abbattuto tre mig sopra il ponte Tanhoa per salvare l'aereo danneggiato di un compagno e che poi si era lanciato da un aereo che si stava disintegrando. «Una fregatura», decise Roland. Il colonnello Macklin era una fregatura e stava iniziando a pensare che anche Earth House lo fosse. Quella mattina si era svegliato e aveva trovato una macchia d'acqua scura sul suo cuscino. Il soffitto perdeva da una crepa larga sei centimetri. Non c'era stata acqua calda nella doccia e quella fredda era piena di sabbia e ruggine. Sua madre aveva dato in escandescenze perché non poteva lavarsi i capelli e suo padre aveva detto che avrebbe riferito il problema al sergente Shore. Roland aveva paura di collegare il suo computer perché l'aria nella sua camera era molto umida e la prima impressione di Earth House come una grandiosa fortezza medievale stava svanendo. Certo aveva portato dei libri da leggere, volumi su Machiavelli e Napoleone e uno studio sulla guerra d'assedio medievale, ma aveva contato sul fatto di poter programmare qualche nuovo dungeon per il suo gioco sul Cavaliere del Re mentre era lì. Il gioco era una sua creazione, 128k di un mondo immaginario frammentato in regni feudali in guerra l'uno con l'altro. Ora sembrava che avrebbe dovuto leggere per tutto il tempo. Osservò il colonnello Macklin. I suoi occhi erano pigri e il volto era grasso. Assomigliava a un vecchio toro mandato al pascolo perché non gli si alzava più. Ma quando gli occhi del colonnello incrociarono i suoi e vi indugiarono per un paio di secondi prima di spostarsi. A Roland tornò in mente una foto che aveva visto di Joe Louis, quando il campione di box faceva l'addetto all'accoglienza clienti di un albergo a Las Vegas. In quella foto Joe Louis sembrava flaccido e stanco, ma stringeva con una mano massiccia la mano fragile e bianca di un turista e i suoi occhi erano duri e scuri e in qualche modo distanti. Forse di nuovo sul ring, ricordando la sensazione di un pugno scagliato contro il tronco di un altro uomo fino a toccargli quasi la colonna vertebrale. Roland pensò che lo stesso sguardo fisso e distante si vedeva negli occhi del colonnello Macklin. E proprio come era chiaro che Joe Louis avrebbe potuto schiacciare le ossa della mano di quel turista con una rapida stretta, il ragazzo percepì che il guerriero nel colonnello non era ancora morto. Mentre il discorso di Macklin proseguiva, il telefono a muro dietro alla mappa ronzò. Il sergente Shore si alzò e rispose alla chiamata, ascoltò per qualche secondo, appese la cornetta e si voltò verso la piattaforma fissando il colonnello. Roland pensò che qualcosa nel volto del sergente si era alterato mentre stava al telefono. Shore sembrava più vecchio adesso e il suo volto era leggermente arrossato. Disse, mi scusi colonnello e mise la mano sul microfono. La testa di Macklin si voltò di scatto con gli occhi furiosi per l'interruzione. Signore, disse Shore calmo, il sergente Lombard dice che c'è bisogno di lei nel controllo perimetrale. Di che si tratta? Non me l'ha detto signore, io credo sembrava dannatamente scosso. Merda, pensò Macklin. Lombard era scosso ogni volta che il radar segnalava uno stormo di anatre o un aereo passeggeri che passava sopra di loro. Una volta aveva sigillato Earth House perché Lombard aveva pensato che un gruppo di deltaplanisti fossero paracadutisti nemici. Comunque Macklin sarebbe dovuto andare a controllare. Indicò a gesti al capitano Warner di seguirlo e poi disse a Shore di terminare l'orientamento dopo la loro uscita. Signore e signori, disse Macklin al microfono, devo lasciarvi adesso per occuparmi di un piccolo problema, ma spero di vedere ciascuno di voi questo pomeriggio durante il ricevimento dei nuovi arrivati. Grazie per la vostra attenzione. Poi percorse la corsia centrale con il capitano Warner dietro di lui. Ripercorsero la strada che aveva fatto Macklin con il veicolo elettrico, con il colonnello che per tutto il viaggio continuò a borbottare qualcosa sulla stupidità di Lombard. Quando entrarono nella stanza del controllo perimetrale, trovarono Lombard a fissare lo schermo che mostrava i segnali del radar in cima al Blue Dome. Accanto a lui c'erano il sergente Becker e il caporale Prados, che fissavano anch'essi lo schermo. La stanza era piena di equipaggiamenti elettronici, altri schermi radar e il piccolo computer che conservava i dati di arrivo e partenza dei residenti di Earth House. Su un ripiano sopra una fila di schermi radar una voce risuonava da una radio a onde corte, quasi sopraffatta dal crepitio dei disturbi. La voce era nel panico, laterando così rapidamente che Macklin non riusciva a capire cosa stesse dicendo, ma al colonnello non piacque il suono della voce e all'istante i suoi muscoli si tesero e la sua testa iniziò a pulsare. «Fatevi da parte», disse agli altri uomini. Si fermò nel punto in cui poteva avere una buona visione dello schermo. La sua bocca si seccò e sentì lo sfrigolare dei circuiti al lavoro nel suo stesso cervello. «Dio dei cieli», sussurrò. La voce alterata della radio a onde corte stava dicendo. «New York è stata colpita. Cancellata. I missili stanno arrivando dalla costa est. Colpita Washington. Boston. Posso vedere le fiamme da qui?» Altre voci fuoriuscivano dalla tempesta di disturbi, frammenti e pezzi di informazioni che scorrevano lungo la rete di radio amatori degli Stati Uniti ed erano ricevuti dalle antenne del Monte Blue Dome. Un'altra voce con un accento del sud si intromise, urlando «Abbiamo perso i contatti con Atlanta! Credo che la città sia stata colpita!» Le voci si sovrapponevano, diventavano più forti e svanivano, frammiste a una cacofonia di singhiozzi, urla, sussurri deboli e lievi e con i nomi di città americane ripetute come una litania dei morti. «Filadelfia», «Miami», «Newport News», «Cicago», «Richmond», «Pittsburgh». Ma l'attenzione di Macklin era concentrata su quello che mostrava lo schermo radar. Non c'era alcun dubbio su cosa fossero. Guardò il capitano Warner e fece per parlare, ma per un istante restò senza voce. Poi disse «Fate rientrare le guardie perimetrali. Sigillate l'ingresso. Siamo sotto attacco. Muoversi!» Warner afferrò un walkie-talkie e partì. «Fate scendere il sergente Shaw», disse Macklin. E il sergente Becker, un uomo leale e affidabile, che aveva servito in chad con Macklin, sollevò all'istante il telefono e iniziò a premere tasti. Nella radio a onde corte, una voce frenetica disse «Questa è la KKTZ di St. Louis! Sto chiamando chiunque! Sto guardando un fuoco nel cielo! È ovunque! Di onnipotente non ho mai visto una cosa del...» Uno stridio di elettricità statica e altre voci lontane fluirono per riempire il vuoto lasciato da St. Louis. «Ci siamo», sussurrò Macklin. I suoi occhi luccicavano e c'era un leggero strato di sudore sul suo volto. «Pronti o no? Ci siamo!» E profondamente dentro di lui, nel pozzo dove nessuna luce era arrivata da molto tempo, il soldato ombra gridò di gioia. «Ci siamo!»» Grazie a tutti